Ups a tutti miei cari upsini e upsine come state come come state spero molto molto bene oggi sono qui solo per voi per fare un nuovo video che non ho mai portato qua sul canale che secondo me è grandioso da ascoltarlo capito? Però voi se volete anche guardare il video ovviamente fatelo. Di cosa tratta? Ci sarà un sottofondo di pioggia quindi voi sentirete tanta tanta pioggia che cade e io durante il video vi toccherò le orecchie capito? quindi senza dire altro indossate un paio di cuffie o auricolari stendetevi sul vostro letto chiudete gli occhi mi raccomando così noi siamo pronti per iniziare col video va bene? bene quindi da adesso facciamo partire la pioggia grazie a tutti QDRQQDQQDQQ QDRQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ chiudì io chiudì io chiudì io scusate se gli ultimi video sono registrati tutti col Tascam ma le idee per i video che mi sono venute volevano tutto il Tascam quindi quando hai un'idea per un video lo realizzi subito proviamo a tapparle entrambe chiudì gli occhi chiudì gli occhi chiudì gli occhi cerca di addormentarti va bene cerca di addormentarti e di dormire tanto tanto intanto ne approfitto per chiedervi dei commenti suggerimenti suggerimenti per dei prossimi video perché ci sta prendere l'iniziativa e cercare di portare sempre nuovi contenuti di genere nuovo diciamo dai però se voi vorreste vedere qualcosa scrivetemelo e vedrò se potrò realizzarlo va bene mi sto addormentando lo so all'iniziativa magari mi avvicino un pelino alla telecamera è carino il suono di quando la tappo c'è un po' che c'è? Grazie a tutti. 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 Mi raccomando, io ti vedo da qua. Grazie a tutti. 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 Sento che il sonno. Grazie a tutti. 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 Tutto, 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 quello che vi passa per la testa, va bene? Il video di oggi purtroppo finisce qua, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist, e qua da qualche parte. Il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate, vi voglio ricordare che il mio canale è un posto sicuro, quindi non avere problemi a contattarmi, a scrivermi, va bene? Quindi buonanotte, 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 un bacio, e noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Ciao!